Chi è l'uomo misterioso accanto a Michelle Hunziker? Il gossip svela un nuovo fidanzato? Ciao a tutti, amici lettori. Oggi vi porto le ultime notizie sul mondo del gossip, e in particolare sulla vita sentimentale di Michelle Hunziker. La celebre conduttrice sembra essere di nuovo al centro dell'attenzione per via di un misterioso uomo che le sta accanto ultimamente. Dopo la fine della relazione con Alessandro Carollo, pare che Michelle abbia trovato un nuovo interesse amoroso, e i paparazzi non si sono lasciati sfuggire l'occasione di immortalarla in dolce compagnia. Un nuovo amore per Michelle? Secondo diverse testate giornalistiche, Michelle Hunziker è stata avvistata mentre usciva da un ristorante in compagnia di un uomo misterioso. Le prime indiscrezioni suggeriscono che si tratti di un manager del mondo della moda, il cui nome non è ancora stato rivelato. Si vocifera che questo nuovo interesse amoroso sia stato presentato a Michelle da Anna Tatangelo, grande amica della conduttrice e fidanzata di Mattia Narducci. Anche egli legato al settore della moda. L'amicizia tra Michelle Hunziker e Anna Tatangelo sembra aver giocato un ruolo cruciale in questo nuovo capitolo sentimentale. Le due sono state spesso viste insieme recentemente, sia in occasione della loro partecipazione a Io Canto Family 2024, sia durante apparizioni pubbliche come quella Verissimo. In queste occasioni, hanno mostrato grande complicità e affetto reciproco, scambiandosi complimenti e dichiarazioni di stima. Nonostante Michelle Hunziker stia cercando di mantenere un basso profilo riguardo alla sua vita privata, i paparazzi sono sempre pronti a scovare ogni dettaglio. Le foto che la ritraggono in compagnia del misterioso manager hanno già fatto il giro dei social e delle riviste di gossip, alimentando la curiosità dei fan e degli appassionati di cronaca rosa. Fino ad ora, Michelle non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla sua presunta nuova relazione. Tuttavia, fonti vicine alla conduttrice affermano che lei sia molto felice e serena. Questa nuova fiamma arriva in un momento in cui Michelle sembra voler dedicare più tempo a se stessa e ai suoi affetti, dopo un periodo turbolento. Rimane da vedere se Michelle confermerà o meno questa nuova relazione nelle prossime settimane. Intanto, non possiamo che augurarle tutto il meglio per questa nuova avventura amorosa. E voi? Cosa ne pensate di questo presunto nuovo amore di Michelle Hunziker? Siete curiosi di sapere come evolverà questa storia? Fatecelo sapere nei commenti. Vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità riguardanti Michelle Hunziker e il suo presunto nuovo fidanzato. Continuate a seguirci per non perdervi neanche un dettaglio su questa affascinante storia d'amore. A presto con nuove news. Con questo aggiornamento, speriamo di aver soddisfatto la vostra curiosità e di avervi fornito tutte le informazioni più recenti su Michelle Hunziker. Non dimenticate di seguirci al canale. Metti un like e attiva la campanella.